Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Il concorso alla Galleria Comunale invia Francesco Crispi un'esposizione di opere acquistate dal Governatorato di Roma dal 1931 al 1939. Completano la mostra documenti storici, immagini, cataloghi, lettere e filmati originali. Infine, per il settantesimo anniversario della Repubblica Italiana, Roma Capitale ha indetto il concorso letterario 70 righe, nasce la Repubblica. Entro il 10 giugno si possono inviare poesie, racconti brevi e fumetti. Grazie a tutti.